Voglio più sicurezza e legalità nel mio quartiere. Non si può andare avanti così. Ormai mi sento straniera a casa mia. Senza il lavoro per i nostri, come possiamo pensare di accogliere nuovi immigrati? Con le nostre tasse bisogna aiutare, prima di tutto i disoccupati e i lavoratori italiani, non altri. Ormai siamo vittime di un'immigrazione selvaggia e senza controllo. Per noi non c'è posto per un solo immigrato in più. Difendiamo i confini, fermiamo l'invasione. Domenica 25 maggio, scegli la Lega Nord. Grazie.